Il principale obiettivo del progetto era quello di fornire delle competenze lavorative agli utenti in modo da avviarli al mondo del lavoro e anche fornire degli strumenti che gli servissero anche per la ricostruzione della propria vita. Dunque, il progetto ha avuto anche la finalità di standardizzare le pratiche che riguardano gli inserimenti lavorativi e quindi di creare delle modalità comuni all'interno del settore dei servizi per le dipendenze e standardizzate, nonché volendo anche trasferibili. Il progetto, che è stato realizzato in una sua prima edizione nel 2008 e in una seconda edizione nel 2011, ha ottenuto ottimi risultati. Infatti, il 60% degli utenti ha portato in fondo il proprio percorso di intervento lavorativo. Oltre la metà non hanno avuto ricaduta nella tossicodipendenza. Inoltre, per un buon 80% di queste persone si è avuto comunque sia un esito positivo dell'intervento, ovvero ha trovato magari lavoro in un altro ente o addirittura nello stesso ente dove aveva effettuato l'intervento. Ma quello che è più importante è che dei 149 soggetti che hanno beneficiato di questa misura, ben 30 hanno stipulato un contratto di lavoro. Per la maggior parte è un contratto a tempo determinato, ma direi che vista l'attuale congiuntura economica si può dire che questo sia un ottimo risultato e che comunque sia gli inserimenti lavorativi sono anche un ottimo strumento in un'ottica anche di politiche di welfare. Grazie. 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 Grazie.